Smaltita la prima tranche di festività natalizie, il Montenero ha affrontato il Real Carceres nella giornata di recupero del campionato di seconda categoria morisana. La piacevole giornata dal sapore primaverile ha regalato agli spettatori uno spettacolo gradevole. Il Montenero, forte di un piazzamento in classifica al vertice, deve obbligatoriamente portare a casa i tre punti per continuare a sognare il passaggio di categoria. Nelle prime battute di gioco, Murolo esce dal campo per infortuni al quarto minuto, costringendo il mister a doverlo sostituire con Savelli e Rico, una scelta che risulterà determinante. Dopo appena due minuti di gioco è bastato un lancio lungo della difesa del Montenero per permettere a Tavolieri di incrociare bene di destro per battere Ciotola. Al quattordicesimo minuto evento singolare in campo, il direttore di gara ferma il gioco per l'assenza delle bandierine ai vertici del campo. Cresce il Montenero e al diciassettesimo minuto di gioco è Savelli che riesce a battere l'estremo difensore del Real Carceres con un pregevole pallonetto. Il divario tecnico in campo nella prima frazione di gioco è evidente, nonostante il generoso impegno dei ragazzi di Ateleta, ma i varchi in difesa sono spesso troppo aperti e le varie incursioni degli attaccanti riescono ad impensierire puntualmente la squadra. Sullo scadere del primo tempo arriva il terzo gol del Montenero ed ancora una volta la legge del gol mangiato, gol subito, non si lascia attendere. Sciulli sfiora il gol di testa e su capovolgimento di fronte l'ennesimo svarione difensivo consente a Savelli di segnare la sua personale doppietta. Dopo l'intervallo di gioco il ritmo in campo scende di tono, risultando una sfida più equilibrata e permettendo così al Real Carceres di concretizzare più occasioni pericolose. Ma è sempre il Montenero a far correre i brividi dietro la schiena ai giocatori ed è proprio al ventiquattresimo, anche se perfezionato da un tocco di mano, Tavolieri riesce a segnare il quarto gol della partita, realizzando così una doppietta personale. La reazione quasi rabbiosa del Real Carceres arriva dopo pochi minuti, anche se più volte Donatelli non è riuscita ad insaccare la sfera in rete, ma su un rimpallo della traversa, su un suo colpo di testa, le donne riesce a segnare il gol della bandiera. Le ultime battute di gara evidenziano la difficoltà dei ragazzi di atleta di segnare sottoporta, pregiudicando così le prestazioni in campo. Termina così una bella sfida, concedendo al Montenero di balzare in testa la classifica del campionato di seconda categoria, inseguendo il sogno della promozione. Risultato allo stadio comunale di Rionero Sannitico, Montenero batte Real Carceres 4 a 1.